Allora ragazze vorrei sapere il nome del capo innanzitutto Nelly Nelly che bel nome Lei Io sono Nelly Lei è Emilia e lei è Angela Ragazzi una domanda semplicissima conoscete Fiat? Sì Fiat Fiat Sì E che è Aldieri Auto? Sì Sì Conoscete Aldieri Auto Vi faccio una domanda difficilissima Mi riveliamo una macchina Ok Domanda difficilissima Fiat quest'anno è uscita con 3,500 L Le conoscete? No Di vista La vecchia 500 L è molto carina Però la L è troppo grande La L sì Troppo grande Tipo maggiorone, maggiorino Allora la 500 L è tipo più una Mini Cooper Ok Sì Però le tre versioni sono 500 L, 500 L Trekking e 500 L Living Di queste quale vi... La lunghezza e l'altezza Quindi 500 L Trekking è più da Gip, fuoristrada La Living a 7 posti La 500 L è tipo una macchina normalissima Che tipo siete? Più avventuriere? Io sceglierei la Trekking Che sei più avventuriere? Sì Se è 4x4 soprattutto Allora sì, la Trekking No no Ma perché? Angela Gary Trekking Io ho 7 posti Sì Vado più per la famiglia io Più... sì Speranzi L'altra? L'utilitaria qual è la più piccola? La 500 L La 500 L Abbiamo incontrato tre ragazze Tre personalità diverse Tre bellissime ragazze Vi ringraziamo Grazie a te Ciao Ciao Ciao